Il sindaco di Albino Fabio Terzi torniamo a parlare dell'oasi Valpredina, c'è qualche novità innanzitutto, ci parla di un no da parte della provincia. Mi sorprende che qualcuno parli di un no. La provincia per quanto riguarda la valutazione di incidenza ci ha chiesto delle integrazioni, la documentazione che noi abbiamo fornito. Abbiamo superato la VAS, la valutazione ambientale strategica, dove l'ufficio urbanistica della provincia ci ha dato il via libera, dovevamo affrontare la questione della VIC, la valutazione di incidenza, dove è l'ufficio ambiente della provincia a doversi pronunciare. L'ufficio ambiente ci ha chiesto delle integrazioni, non ci ha detto no, non ci ha bocciato la procedura di VIC. Certo, vogliamo capire quali sono queste integrazioni, perché poi ci rimanda a integrazioni richieste dall'ente gestore dell'oasi, della Valpredina. Sono 15 pagine, molto tecniche, che si concludono dicendo che l'ente gestore non è favorevole a questa variante, di ritirarla. Per cui vogliamo capire queste integrazioni se davvero sono contenute in questo documento prodotto dall'ente gestore, che la provincia ha dovuto comunque sentire a norma di legge. Perché chi si deve esprimere per quanto riguarda la valutazione di incidenza è la provincia, avendo sentito l'ente gestore dell'oasi, il cui parere però non è vincolante. Ecco, questo tengo a sottolinearlo. Per cui noi abbiamo un documento della provincia che si dice di produrre delle integrazioni alla nostra valutazione di incidenza. Integrazioni che dovrebbero essere contenute nel documento, nel parere acquisito da parte della provincia dall'ente gestore. Noi abbiamo dato in mano tutto un avvocato, perché la questione sta diventando un po' ingarbugliata. Vogliamo capire bene che cosa vuole la provincia, perché se mi chiedi delle integrazioni, e queste integrazioni dovrebbero essere contenute nel parere del gestore, dell'oasi, ma questo conclude il suo parere dicendo che non è d'accordo, vorremmo capire quali siano queste integrazioni richieste. Noi rimaniamo sempre del parere che questa fascia di rispetto è spropositata rispetto alla superficie dell'oasi stessa. Solo su Albino è quattro volte di più la superficie dell'oasi. Se calcoliamo poi la fascia di rispetto nel comune di Prada Lunga e di Cenate, questa fascia di rispetto diventa quasi dieci volte di più l'estensione dell'oasi. Per cui è veramente molto strano che una fascia di rispetto sia dieci volte di più della superficie dell'oasi protetta. In secondo luogo riteniamo che, piccolo o grande che sia la fascia, all'interno di questa fascia, siccome è una fascia di rispetto, quindi di transizione, non debbano valere le stesse norme dell'oasi, altrimenti mi trovo ancora nell'oasi. È un ampliamento sul rettizio dell'oasi, perché se nella fascia di rispetto io ho gli stessi vincoli, gli stessi divieti dell'oasi, è come se mi trovassi nell'oasi. Non è una fascia di rispetto. Quindi noi siamo fermi su questa posizione, vogliamo andare fino in fondo. Qualora la provincia dovesse intergiversare, chiederci altre integrazioni, non venirne a capo, siamo pronti anche ad andare al TAR. E quindi a fare un ricorso, perché siamo convinti delle nostre posizioni. Questo comunque allunga i tempi del processo. Certamente, perché noi eravamo pronti ad andare in adozione, una volta acquisita quello che era il parere sulla VAS, dovevamo anche avere il parere positivo sulla VIC. Ripeto, non è arrivato un parere negativo, sono state chieste delle integrazioni, che dobbiamo ancora capire quali siano. Per cui non c'è un no, c'è un fermo, nel senso portate altre, altra documentazione, portate certe integrazioni. Per cui, intanto, un fermo c'è, perché dobbiamo avere il parere favorevole anche sulla VIC. Non posso andare in adozione senza questo parere. Ripeto, noi comunque siamo decisi ad andare fino in fondo. Questo senza, chiaramente, non riconoscere l'attività meritoria che il WWF sta facendo nell'OASI protetta di sua proprietà. Però riteniamo che estendere certe attenzioni così forti per quanto riguarda la fauna selvatica, che quindi vanno a davvero limitare le attività antropiche, anche in Valle del Luio, sia troppo. In Valle del Luio, noi sappiamo, c'è una comunità di 5.000 abitanti, è un'area antropizzata, è un'area dove ci sono boschi, ci sono pascoli, ci sono prati, ci sono fondi che devono essere tenuti, curati, la gente ha la propria cascina, il proprio casello, il proprio capanno degli attrezzi. Allora, una fascia di questo tipo, che si prevede poi possa anche dilatarsi, perché nel cassetto, in regione Lombardia, già c'è da tempo una proposta di ampliamento dell'OASI, in Valle del Luio, sul versante nord del Misma, come ZPS, come zona di protezione speciale. Questo ampliamento dell'OASI comporterebbe anche un ampliamento ulteriore della fascia di rispetto e quindi andrebbe, a nostro modo di vedere, a davvero ingessare, a legare le mani a tutti quelli che in Valle del Luio hanno un piccolo bosco, un piccolo praticello, perché stante adesso le norme non si può far niente, non si può toccare niente. Giova, ricordare che parliamo comunque sempre di aree che sono nel sistema ambientale e quindi sono già tutelate di suo, perché sono o bosco o aree agricole, per cui sono le aree più salvaguardate all'interno di un PGT e per quanto riguarda il bosco c'è la comunità montana, non è quello che può andare a tagliare come vuole, deve confrontarsi con la comunità montana, qualora appunto non ci sia la fascia di rispetto. Ecco, però fare un'area a riserva integrale dove non puoi muovere più niente in Valle del Luio, ecco, è corretto e giusto che gli abitanti della Valle del Luio sappiano cosa sta bollendo in pentola. Noi abbiamo come centro-destra una posizione precisa, l'oasi rimanga là, faccia quello che deve fare, in Valle del Luio non possiamo attuare certe azioni di limitazione, certi divieti, perché ci sono delle persone, non è un'area deserta, non è un'area selvaggia, ma ci sono case, ci sono cascine, ci sono caselli, ci sono prati, ci sono boschi che non possono essere lasciati così intoccati perché diventa un'area protetta. Ripresa un po' l'attività normale del comune, possiamo dire, tanti cantieri aperti in divenire, qualcuno sta chiudendo, che punto siamo? Sì, diciamo che l'interruzione dei cantieri ha riguardato soltanto le due settimane centrali di agosto, ovviamente, quella prima e quella dopo ferragosto, ma poi durante tutta l'estate i cantieri hanno continuato a proseguire, qualcuno in maniera più veloce, qualcuno magari un po' più lentamente, ma sono stati tutti attivi. Finalmente il cantiere delle scuole medie di Desenzano Comenduno è terminato, è stata consegnata alla fine lavori, stiamo procedendo con i collaudi anche sulla parte degli spogliatoi della nuova palestra. Certamente fuori la situazione è ancora un po' da cantiere perché un'altra ditta ha preso l'appalto per la realizzazione dei due corpi aggiuntivi alla palestra, parliamo della biglietteria e parliamo della sede dell'associazione o delle associazioni della sala riunioni. Questi due corpi aggiuntivi della palestra nuova, ripeto, sono stati appaltati a un'altra ditta che sta operando per realizzarli, ma la scuola che era già stata consegnata a gennaio 2023 e gli spogliatoi e la palestra, che sono stati consegnati una settimana fa, sono finiti. Stiamo procedendo per i collaudi. Sta proseguendo anche il cantiere prospicente, questo delle medie, parlo delle nuove scuole dell'infanzia, e questo sta proseguendo molto bene, la speranza è di riuscire a completarlo per la fine dell'anno. Ce la stanno mettendo tutta. Calcoliamo che hanno cominciato a lavorare a maggio dell'anno scorso, per cui un anno e tre mesi. Hanno tirato su Ex Novo una bellissima scuola dell'infanzia con sei sezioni, in più anche tutta la direzione didattica al secondo piano. Abbiamo finito anche la piazzetta di Comenduno, questa già nel mese di agosto. Stiamo aspettando soltanto che arrivino le barriere in Cortenna e poi tutta la parte superiore, dove è rimasto l'asfalto e non è stata pavimentata con il porfido, sarà un intervento successivo di un'altra ditta, perché chiaramente il fondo stradale lì è un po' sconnesso, è messo male e vorremmo quindi proseguire, come abbiamo asfaltato tutta la via Santa Maria, e anche la parte sopra del lavatoio asfaltarla, ma ripeto, quello è oggetto di un altro appalto per l'autunno che sta venendo. Il parcheggio di Fiobbio è stato completato, l'abbiamo tra virgolette inaugurato, è stata più una benedizione da parte del Vescovo il 13 agosto, che era presente alla festa patronale di Sant'Antonio, era quasi completato il parcheggio, ora è stato definitamente completato. Stanno proseguendo i lavori per sistemare il percorso storico che poi dal parcheggio scende fino giù verso il mulinello, un percorso che comunque sarà di natura ciclo pedonale non carrabile. Stanno proseguendo i lavori per la mensa presso le scuole primarie Margherita H. Sono iniziati quest'estate, i lavori chiaramente non sono terminati, un intervento di questo tipo richiede tanti tanti mesi. È un intervento fatto con fondi PNRR. Come con fondi PNRR stiamo intervenendo sull'ex scuola elementare di Desenzano, attualmente sede di alcune classi del Romero. Stiamo rifacendo tutta la facciata storica, lì è proprio un risanamento conservativo che sta proseguendo lentamente perché chiaramente deve essere fatto nei dovuti modi con delle procedure particolari con molta attenzione, sempre in collaborazione con la sovrintendenza. Diamo uno sguardo all'albino del futuro in cui non sarà più sindaco. Ci sono due zone in particolare che potranno segnare il rilancio di questa città che sono l'area del Vassana Center e della zona Oneger. Allora, per quanto riguarda l'ex cotonificio Oneger, siamo in attesa che i due imprenditori che hanno ritirato l'area ci presentino il piano attuativo. Stiamo aspettando con trepidazione la loro proposta quello che sappiamo e che comunque vogliono riutilizzare tutta l'area ancora in chiave produttiva. Per cui per noi questo davvero è stato un po' una manna più butta dal cielo perché un'area così importante si parla di oltre 30.000 metri quadrati di SLP poter pensare che fosse ancora rienterpretata in chiave produttiva industriale era un po' un'utopia, tant'è vero che il PGT prevedeva che quell'ambito di trasformazione potesse accogliere anche altre funzioni come quella commerciale, come quella residenziale, come quella terziaria. Il fatto appunto che i due soggetti che hanno ritirato l'area dal fallimento siano due imprenditori e che vogliano riutilizzare tutta l'area ancora in chiave produttiva davvero questo è molto importante e sicuramente darà dei grandi benefici al territorio non soltanto alla comunità di Albino. Era importante rimettere in sesto un'area che è solo di faticente abbandonata a se stessa ma soprattutto insediandovi attività produttive che sono importanti e storiche qua nella valle da parte di questi due imprenditori ripeto avrà una ricaduta positiva sicuramente sull'economia non solo di Albino ma della Val Seriana. Per quanto riguarda l'ex Val Seriana Center anche qui l'operatore che ha ritirato la struttura dal fallimento sappiamo che si sta muovendo in più direzioni per riuscire a collocare dentro in quella struttura delle funzioni importanti, non solo commerciali, funzioni e servizi che sicuramente potranno avere anche in questo caso una ricaduta positiva sulla comunità di Albino e anche dell'intera media bassa val Seriana.